Un gol di Guido a 15 minuti dalla fine tiene aperta la speranza del Due Torri di poter agganciare negli ultimi 90 minuti della stagione la Serie D. Si è infatti chiusa sul 3-1 la gara di andata valevole come spareggio per la promozione nel massimo torneo direttantistico tra Torrecuso e Due Torri. La compagine campana ha confermato quello che era il pronostico della vigilia. Per 75 minuti ha fatto la partita e solamente dopo il 3-0 ha concesso qualcosa ai messinesi che appunto con Capitano Guido sono riusciti ad accorciare le distanze. Il Torrecuso costruito per il salto di categoria è giunto secondo nel proprio girone solamente per una sentenza del giudice sportivo che ha ribaltato il risultato della seconda classificata la Viquequenze e campionato ormai concluso. Ieri a Locone di Ponte in 10 minuti ed a cavallo tra primo e secondo tempo i locali con Carotenuto, Montaperto e Zerillo hanno messo a segno una serie ipoteca sulla promozione. Come detto però la rete di guido permette al Due Torri di limitare danni e di sperare nella rimonta domenica prossima a Lenzo Vasi. Davanti a circa 2000 spettatori i partenopei riescono a sbloccare solamente in chiusura di tempo con un'invenzione del suo uomo più importante Pasquale Carotenuto direttamente sul calcio di punizione. Il tiro dei fantasista dai 20 metri è chirurgico, supera la barriera pietrificando in Ferrera. Neanche il tempo per riordinare le idee che il Due Torri incasse il raddoppio. In questo caso è la difesa a regalare a Montaperto la possibilità di trafiggere nuovamente il guardia pali tirrenico. Sul 2-0 si vanno gli spogliatoi ma il ritorno in campo è ancora più traumatico degli ultimi minuti della prima parte. I Sanniti infatti dopo solamente 4 minuti mettono a segno la rete del 3-0, sicuramente la più bella della giornata. E Zerillo a finalizzare magistralmente uno scambio volante sull'out di sinistra tra Carotenuto e Montaperto. Di collo pieno il giocatore non lascia scampo a Inferrera. Con il risultato acquisito cala la manovra della squadra di Santo Suosso e il Due Torri ne approfitta con Guido che con un tiro dal limite mette alle spalle di Minichiello. È la rete della speranza ma domenica prossima a Piraino il Due Torri è chiamato all'impresa per centrare la Serie D. Serve la gara della vita, segnare due reti senza surbirne. Ma intanto domani l'ultimo grado della giustizia sportiva dovrà pronunciarsi sul ricorso del Torre Cuso. In caso di vittoria la Lega Nazionale sarà costretta a rimescolare le carte. Il Due Torri spera poiché potrebbe anche trovarsi nel campionato superiore senza dover giocare la gara di ritorno.